E Annegret Kramp-Karrenbauer a succedere ad Angela Merkel alla guida della CDU, il partito dei cristiano-democratici tedeschi. L'ex governatrice e segretario generale è stata eletta al secondo turno di voto dopo aver vinto il ballottaggio con il rientrante in campo politico Friedrich Merz. La 56enne protetta della Merkel ha vinto con 517 voti contro il 482 presi dal suo avversario e con ogni probabilità sarà la candidata alle prossime elezioni per la cancelleria in programma nel 2021.